Il Consiglio Comunale di Montorio Alvomano è stato convocato dal Sindaco Facciolini per il 4 di ottobre su invito del Prefetto però. Sì, certo, anche perché io ho invitato prima i consiglieri che hanno portato avanti le mozioni ad integrarle perché ci sono dei problemi su alcune mozioni. Loro invece di portare avanti questo discorso e integrare hanno preferito scrivere al Prefetto e quindi su invito del Prefetto mi hanno detto di convocare il Consiglio e ho ritenuto opportuno convocarlo per il 4 di ottobre. Cosa si aspetta da questo Consiglio? Lei è rimasto con tre consiglieri in maggioranza. Ecco, questa è una cosa che andremo a vedere perché giustamente dopo un anno e due mesi che cerco di resistere o si va su o si va giù. Cosa si aspetta da quei consiglieri che sono usciti dalla maggioranza e che sono entrati nel gruppo misto? Beh, che cominciassero a fare il loro lavoro perché il Paese è in profonda emergenza e questo non viene capito ancora. Ma nel frattempo lo sto facendo io anche per loro. Si parla di probabile commissariamento? Beh, certo, se l'amministrazione cade, a quel punto in questo momento io non ho la maggioranza. Ho detto semplicemente, ho ripetuto più di una volta che non mi dimetto perché non penso di avere responsabilità in merito. Quindi, senza nessun problema, mi possono sfiduciare, hanno fatto tutti questi passi però non sto vedendo ancora il seguito di queste mosse. Quindi, o si va giù o si va su o giù perché il Paese ha bisogno di energie, di forza, di essere amministrato. E il 4 ottobre arriveranno in Consiglio le quattro mozioni della minoranza che finora non erano state discusse? Arriveranno le quattro mozioni insieme degli altri punti all'ordine del giorno. Ma al di là di questo, quello che mi rammarica è che invito la cittadinanza, la quale deve riflettere sul problema, è che per la minoranza, le minoranze meglio così, i problemi cruciali di Montorio sono gli argomenti espressi dalle quattro mozioni. Parliamo del motodromo, parliamo delle indennità, parliamo di una cifra da devolvere che già chiaramente si andranno a creare debiti fuori bilancio, quindi è impossibile, l'ufficio non darà mai l'assenso, e di un documento errato inviato a loro per condo del mote quando nel fascicolo è tutto chiaro e normale. Questi sono i problemi di Montorio.